Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo biografico. La storia di una donna afghana che esplora le sfide e i conflitti interiori di una persona che lotta per trovare la propria identità e il proprio posto nel mondo. Il testo offre uno sguardo intimo e coinvolgente sulla vita delle donne in un contesto culturale e politico complesso come l'Afghanistan, evidenziando le lotte per l'indipendenza e l'autodeterminazione. Tramite la storia il lettore può comprendere meglio le sfide e le contraddizioni di una società divisa tra tradizione e modernità, e riflettere sulla necessità di promuovere l'uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo. La trama del libro La bambina che non c'era, della scrittrice Siba Shakib, pubblicato dalla casa editrice Libreria Pienogiorno, è la seguente. Se hai un segreto, prendilo, portalo sull'inducosce e nascondilo sotto una pietra. Non c'è un giorno in quei nove mesi e poi nelle lunghe ore del travaglio che Daria non abbia pregato perché nascesse un maschio, che non abbia tremato per le conseguenze in caso contrario. Suo marito, il giovane e valoroso comandante, non avrebbe potuto sopportare l'affronto di una femmina. Solo al primogenito maschio il comandante può trasmettere tutto ciò che ha imparato dal padre e dai suoi avi. Solo un primogenito maschio può garantire al giovane comandante il rispetto dei suoi combattenti e della sua tribù, sui monti dell'Indukosh, in Afghanistan. Daria sa bene cosa può fare il villaggio se mette al mondo una bambina. Una femmina vale meno di una pecora, meno di niente. Potrebbe anche non esistere. Così Samira, che nasce nonostante tutte le preghiere, non vivrà un solo giorno da bambina. In segreto il comandante decide che la crescerà come un maschio e che il suo nome è Samir. E che, quando sarà il momento, prenderà il suo posto. Samir impara a cacciare, ad andare a cavallo, a sparare e a combattere e gode di una libertà che alle donne è sconosciuta. Molte domande e turbamenti si agitano in lei, ma si allena a soffocarle. Per tutti è un ragazzo forte e saggio e i suoi soldati non hanno dubbi. Se mai il comandante morisse in battaglia, dovrà essere lui la nuova guida. Un turbine di sentimenti, conflitti interiori e sociali sullo sfondo di un paese senza pace. La storia di una bambina coraggiosa in lotta per riappropriarsi della propria vita e del proprio destino. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.